Martedì 6 ottobre, buongiorno, sono le 7 del mattino, benvenuti al consueto appuntamento con Lara Segna Stampa, con i giornali. Allora, quali sono gli argomenti principalmente trattati? Naturalmente c'è molto spazio a quanto riguarda il Covid, nel senso che verrà presentato il DPCM, cioè il documento del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che contiene le nuove misure. Andremo a vedere quali sono le misure proprio nel dettaglio, oltre chiaramente ad una richiesta della proroga dello Stato d'emergenza fino al 31 di gennaio. Questo per quanto riguarda il Covid, per quanto riguarda l'azione del Governo, e naturalmente poi andremo a fare anche il punto sulla situazione del Covid. Poi, restando a parlare di politica, ci sono anche i risultati dei ballottaggi, ballottaggi che confermano l'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Andremo a vedere perché i risultati dei ballottaggi vanno in questo senso. E poi, continuando a parlare però di coronavirus, è stato dimesso il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è già rinsediato alla Casa Bianca e riprenderà a fare la campagna elettorale. Queste sostanzialmente sono le principali notizie che troviamo sui giornali. Abbiamo subito la conferma dalla prima pagina del Corriere della Sera. Allora, andiamo a vedere il titolo d'apertura. Feste multe, ecco le regole, sia le mascherine obbligatorie, le regioni evitano i limiti ai ristoranti. E poi, nell'occhiello Conte, niente coprifuoco. I contagi hanno bloccato la consulta e due commissioni parlamentari. Restiamo per un momento sulla prima pagina del Corriere della Sera perché c'è una intervista a Ruini, chiesa italiana in declino. Chi critica il Papa non è contro. Andremo a vedere un'intervista che ha fatto Aldo Cazzullo. E poi una notizia sui ballottaggi. Eccola, ballottaggio al PD, sei capoluoghi su nove, rimonta all'Ecco. La fotonotizia mostra il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo sapete, era stato ricoverato perché è risultato positivo al coronavirus. E allora il titolo, Trump lascia l'ospedale. Le sue prime parole, non temete il Covid. Ritorna alla Casa Bianca, prima di entrare però, dice, si toglie la mascherina. Vi segnalo, anche perché è un argomento trattato molto dai giornali, un'intervista al Ministro Spadafora. In questo caso si parla di Juve-Napoli. Lo sapete, è stata giudicata, secondo le regole, nuove regole della Federazione, a tavolino alla Juventus perché Napoli non si è presentato. Ma andremo a vedere poi che cosa vuol dire questo. La Repubblica, virus, riparte la battaglia, seconda ondata. Siamo entrati nella nuova fase della pandemia, controlli rafforzati per chi arriva da Olanda, Belgio e Regno Unito verso l'obbligo di mascherina e di distanziamento ovunque. Possibili lockdown locali, cioè chiusure locali, appunto locali localizzate, nel senso non estese a tutto il territorio nazionale. La fotonotizia ritrae Donald Trump, torno alla Casa Bianca. E poi le notizie sulla politica e ballottaggi premiata all'Alleanza 5 Stelle PD. E sopra, svolta sui migranti, il Governo cancella i decreti Salvini, i cosiddetti decreti sicurezza. Andiamo sulla stampa. La stampa è importante, mi voglio soffermare un pochino di più perché è risultato positivo. Il direttore della stampa, Massimo Giannini, è stata messa in sicurezza tutta la redazione. E allora c'è un importante editoriale di Giannini, proprio del direttore, che ci dà conto delle sue condizioni di salute, naturalmente gli auguri da parte nostra. Però è anche una testimonianza importante quella che arriva dal direttore della stampa. Allora, andiamolo a leggere insieme. Ho il coronavirus, l'ho scoperto due giorni fa, dopo un sabato ho passato tra tosse, mal di gola e dolori al torace. C'è una domenica trascorsa nel pronto soccorso Covid di un grande ospedale romano per tutti gli accertamenti. Alla fine, diagnosi inequivocabile, tampone positivo ma attacca negativa. Dunque, prognosi inevitabile, quarantena, isolamento e terapia domiciliare per due settimane fino a nuovo tampone. Dice la notizia, di per sé conta poco o nulla, come è logico e giusto. La mia salute non interessa a nessuno se non a familiari e amici. Ma se ne parlo oggi ne scrivo solo per due motivi che invece sono molto importanti. Andiamo a vederli, a leggerli insieme. Il primo motivo riguarda il nostro giornale e la nostra comunità. Il rischio di contagio nella redazione di Un Quotidiano, come in qualunque altro luogo di lavoro, va gestito con rigore. Ce ne siamo fatti carico, ci siamo organizzati, abbiamo garantito e garantiremo la sicurezza di tutti. E poi il secondo motivo riguarda il nostro Paese e la nostra convivenza civile. Nelle 11 ore che ho vissuto al reparto Covid del Policlinico Gemelli ho visto tante persone ricoverate, ho sentito tanti pazienti piangere e gridare di dolore. Ho parlato con medici e infermieri che mi hanno raccontato quanto stiano crescendo i ricoveri urgenti e come si stiano riaprendo le terapie intensive. Era importante raccogliere questa testimonianza da parte del direttore Giannini. La fotonotizia, no al coprifuoco per bar e ristoranti, sì alle mascherine e all'aperto. Vediamo il messaggero. La truffa dei tamponi a domicilio, un infermiero e il compagno hanno effettuato falsi test a pagamento senza farli mai analizzare. A tutti davano finti certificati di negatività, decine di casi accertati, indaga il PM di Civitavecchia. E poi la notizia sulla nuova misura, mascherine sempre ma locali aperti, controlli a scuola e stop a feste di studenti. Vediamo il fatto quotidiano. Lega scoperte 100 operazioni sospette, quindi di tutt'altro natura. L'apertura da Bossi a Selvini arriva una montagna di nuovi documenti per rileggere i flussi milionari della rete dei professionisti legati al partito. Intanto per Siri il processo si avvicina. 7 e 6 minuti, linea alla regia, ci vediamo tra qualche istante. Riprendiamo la lettura dei giornali, vi aspettiamo. 7 e 11 minuti, ben ritrovati. Allora, prima pagina del Sole 24 ore, leggiamo insieme l'apertura. Purtroppo non sono buone notizie per i nostri conti. Ecco i nuovi conti, debito più 194 miliardi, investimenti su del 27% nel 2021-2023. E poi ancora, decreto agosto al traguardo, sisma bonus 160% sotto tiro. Vi segnalo un'intervista all'amministratore delegato della Ducati, Claudio Domenicali. Ducati, trimestre record e moto con il radar. Il Fatto Quotidiano l'abbiamo visto. Vediamo il giornale. Tra virus e immigrazione, non chiudono i locali ma riaprono i porti. Mascherina obbligatoria, ma bar aperti e no al coprifuoco. Accordo, PD, Movimento 5 Stelle, in Consiglio dei Ministri torna la protezione umanitaria. Vediamo Libero come apre. Gravi minacce alle leghiste. Attacchi violenti della sinistra, ti stupro, eccetera, eccetera. Le salviniane sono nel mirino, ma le femministe tacciono. E per il PD la Casellati non può dire la sua. Vediamo il manifesto, invece, come apre. Unione civile, ritratti sono Zingaretti e Di Maio. Il PD vince la sfida dei ballottaggi conquistando sei capoluoghi su nove. Il Movimento 5 Stelle festeggia Matera, premiati di apparentamenti. Zingaretti esulta, gli elettori delle forze di governo si uniscono. Le ore a Di Maio esalta il modello coalizione. Andiamo a vedere il riformista come apre. Le piazze non chiederanno verità per Luigi. La mamma griderà da sola. E ancora, vediamo la verità. No alle mascherine all'aperto, si prepara l'ennesimo decreto che limita le libertà a Capocchia. E ancora, vediamo avvenire. Avvenire per un mondo nuovo. L'enciclica del Papa, Fratelli Tutti, è stata firmata da Bergoglio sabato scorso ad Assisi, esorta ad abbattere i muri e sollecita relazioni etiche fra i Paesi. Nessuna guerra può essere giusta. La pena di morte è inammissibile. Chiesta una apertura sui migranti. E poi il commento, anzi il commento, il richiamo sui servizi relativi ai decreti sicurezza. Finalmente cambiano i decreti in sicurezza. Torna la protezione umanitaria per i migranti non più invisibili. Così il tempo. Vediamo il mattino di Napoli. De Luca chiude con Tenola stretta solo in Campania. Peraltro bisogna anche rilevare che purtroppo la Campania è la regione con il più alto numero di contagio, almeno negli ultimi giorni. Bar e ristoranti chiusi alle 23, mascherina all'aperto in tutta Italia. Il governo aumenta i controlli alle uscite delle scuole, vietate le feste degli studenti, regioni divise. Poi gli esperti del CTS richiamano il calcio. Serve una vera bolla. Lo vedremo poi negli approfondimenti quanto si parla di Juve Napoli che non si è giocata. La Gazzetta dello Sport. Chiesa. La Juve già nel futuro. La Giovin Signore. Poi Nibari Vulcanico. Parliamo del Giro d'Italia. E poi il governo in campo, spada fuori, il ministro difende il protocollo. Va bene, là non è a rischio. Andiamo a vedere gli approfondimenti. Partiamo proprio dalle nuove misure, dal nuovo decreto del governo relativo al coronavirus. E allora quali sono questi provvedimenti, nuovi provvedimenti contenuti nel DPCM appunto. Mascherine ovunque. La novità più importante del prossimo DPCM, vi ricordo DPCM sta per decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto e su tutto il territorio nazionale. La norma era già prevista in alcune regioni. E poi niente affollamenti. Divieto di assembramento sarà ancora più stringente, così da evitare affollamenti in particolare la sera e nel fine settimana. Poi bar e ristoranti restano aperti, salta la chiusura anticipata di bar e ristoranti alle 10.11 di sera a livello nazionale, ma in campania nei giorni feriali si chiude alle 23, nel fine settimana a mezzanotte. E poi feste private. Non bisogna accalcarsi, così come non si potrà ancora ballare il limite per le feste dopo le cerimonie di 200 persone che dovranno comunque osservare tutte le precauzioni. Leggiamo molto rapidamente l'inizio dell'articolo di Fiorenza Sarzanini, perché ci parla anche delle eccezioni. Le uniche eccezioni riguardano i viaggi in macchina da soli, gli spostamenti in moto o in bici, le passeggiate in luoghi isolati. Nel resto dei casi sarà sempre obbligatorio indossare la mascherina. A suggerire la nuova regola è stato il Comitato Tecnico Scientifico, che ieri ha consegnato al Governo le indicazioni per fronteggiare la seconda ondata dei contagi da coronavirus. E allora vediamo proprio quali sono però in realtà le contraddizioni e le polemiche legate a queste misure che arrivano dal Governo. Ce n'è una qui proprio a pagina 2, è un'intervista al Governatore della Liguria Toti a proposito delle mascherine. Dice Roma lasci decidere a noi, rivendica un'autonomia delle regioni. Dice le regole adatte al territorio. E allora che cosa ha detto al Premier, gli chiede Paola Di Caro che lo ha intervistato? Che il Covid sta crescendo, è vero, ma siamo lontani dall'emergenza della primavera scorsa, sia per numeri che per gravità dei casi. E con una situazione economica molto preoccupante c'è bisogno di equilibrio, cioè non servono altre misure. Io dico che si deve continuare a contenere il virus, ma chiudere l'attività economica o anche solo ventilarlo, dando un'ulteriore spallata all'economia del Paese, sarebbe essiziale. E poi le sembra possibile che ogni regione possa andare per conto proprio. Dice ma non è mica un arbitrio privo di regole. Ogni regione ha una task force epidemiologica, esperti consulenti, ognuno si muove sulla base della situazione locale. Io posso avere un cluster in un comune, addirittura in un quartiere, ed agire anche con misure rigide in quel contesto. Ma perché devo trattare situazioni diverse, addirittura in regioni diverse allo stesso modo? Queste sono le obiezioni appunto mosse dal governatore della Liguria, Toti. E allora andiamo a vedere però, cominciamo con le interviste. Ce n'è una al virologo Alfio, scusate, Arnaldo Caruso, sulla stampa pagina 7. Vedete il titolo che c'è tra l'altro nel titolo in alto. Orarie mascherine, le regioni si ribellano, è sproprio di potere. Questa è la sintesi delle obiezioni mosse da alcuni governatori. Allora, vediamo questa intervista però. Cominciamo a vedere come sta andando realmente l'epidemia al momento. Dice, i locali piccoli devono chiudere, al sud c'è il rischio lockdown. Siete pronti a tornare in prima linea? Gli ospedali si preparano alla seconda ondata per non ripetere gli errori della prima, quando i malati infetti entrarono nei reparti RSA, le residenze per gli anziani. Pronto soccorso si stanno riempiendo, la guardia va tenuta alta. Velocizziamo i processi dei tamponi e già ora ne facciamo più che a marzo e ad aprile. E ancora, quanto è grave la situazione, i contagi crescono in modo lento ma progressivo. Non c'è la gravità del passato perché l'età media dei malati è più bassa, però quando il virus colpisce persone fragili e anziane fa ancora male, da cui il recente aumento di ricoveri in terapia intensiva e di morti. E allora, restiamo qui sulla stampa perché voglio leggere insieme a voi il taccuino, l'analisi di Marcello Sorgi a proposito del governo, dell'azione del governo. Lo sapete, ci sono state critiche, ieri anche molto dure, da parte della Presidente del Senato Casellati. E allora, vediamo l'analisi che fa Marcello Sorgi. Sebbene il governo abbia scelto una linea tutto sommato prudente, e mascherine all'aperto, eccetera, eccetera, si prepara una dura accoglienza tra Parlamento e Regione al nuovo DPCM, che verrà illustrato oggi, alla seconda ondata del Covid. La ragione è semplice, i Lega e Fratelli d'Italia aspettavano al Varco Conte, dalle Camere, per ricominciare con la surfa del Parlamento esautorato, da un premio autoritario accentratore, dato che il decreto prevede anche il prolungamento dello stato d'emergenza a gennaio. Ma Conte ha deciso che sarà il Ministro della Salute e Speranza a illustrare il provvedimento a Montecitorio. Le opposizioni private del bersaglio grosso sono già partite con un fuoco di sbarramento preventivo. E poi l'altro fronte aperto per il governo è con le Regioni, in un certo senso sembra di essere tornati a otto mesi fa, quando i governatori rivendicavano piena potestà sul loro territorio. Il Ministro Boccia faticava a tenere a bada una serie di fughi in avanti che rasentavano l'anarchia. Questa è l'analisi che fa a Sorge. Allora, parlando di governo, si è votato ai ballottaggi, si è rinsaldata in qualche modo l'alleanza della maggioranza di governo di PD tra PD e 5 Stelle. E allora qui sulla Repubblica, a pagina 14, c'è la sintesi di quelli che sono stati i ballottaggi da Bolzano, Reggio Calabria, Chieti, Arezzo, Crotone, eccetera, eccetera. C'è anche un'intervista che vi segnalo a Falcomatà per quanto riguarda Reggio Calabria, dice adesso affrontiamo la sfida del recovery. Questo per quanto riguarda appunto i ballottaggi. C'è un'intervista a pagina 5 della stampa, a Di Maio, l'alleanza premia 5 Stelle e la Forza Conte, poi i soldi della recovery per aiutare le imprese. Cosa dice? Non diventeremo un partito, ma dobbiamo unirci sui nostri valori e tradurli in una leadership forte. Non voglio più candidati che sfruttano il nostro brand e ci tradiscono subito dopo. Entrare nel PP ce lo chiedono in molti, forse perché siamo una forza innovativa e moderata. Così Di Maio. C'è un'intervista a pagina 4 e 5 al nuovo sindaco di Matera, che è proprio un esponente del Movimento 5 Stelle, altro che morte nera, come aveva detto prefigurato in qualche modo Di Battista, dice ho vinto grazie al PD. Così appunto è quanto dice. Un'intervista al ministro Spadafora, parliamo di Juve e Napoli che non si è giocata, a pagina 9 del Corriere della Sera, fate i conti con la realtà, la Serie A deve essere ripensata. E allora, la lettura dell'intervista la rimando poi a ognuno di voi, sono le 7 e 21 minuti, subito alla linea Paolo Sottocorona, perché vogliamo sapere che tempo ci aspetta nelle prossime ore. Buongiorno Paolo. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti a casa. Ovviamente la situazione di questa mattina è un po' particolare, perché? Perché ieri avevamo tutta questa nebulosità molto irregolare, non è che si vedesse bene la perturbazione che ha portato poi ancora delle piogge, invece nel momento che se ne vanno queste nuvole si organizzano per uscire, vediamo in questa maniera, perché qui la perturbazione si vede molto bene, i temporali, guardate sullo Ionio, ancora vicini alle coste della Sicilia e della Calabria, ma se ne sta andando, si sta allontanando. Le piogge previste per la prima parte della giornata di oggi sono in questa zona, dove le nuvole se ne stanno andando, molto deboli, e poi qualcosa molto poco si vede sull'Alta Toscana, sull'Appennino settentrionale, al di là delle Alpi piogge, ma vedete sempre sul verde, verde significa piccolissime quantità, vediamo il pomeriggio serata, se cambia qualcosa. Aumentano le nuvole, sicuramente, restano le deboli piogge al sud, le piogge sempre deboli, prendono, cioè continuano a interessare l'Alta Toscana, l'Appennino settentrionale, e la Liguria di Levante, e poi questa fascia più settentrionale. E al di là delle Alpi c'è invece il colore azzurro che indica piogge moderate, quindi non è un maltempo forte, ma sicuramente, scusate, ricambia un po' la situazione. Infatti, nella giornata successiva, mercoledì, ecco che arrivano delle piogge moderate su tutto il centro-sud, o gran parte del centro-sud, il nord-est piogge deboli, qualche fenomeno appena più intenso subito fuori dal confine, sulle zone di nord-ovest schiarite, quindi non ci sono piogge. Questo peggioramento, questo maltempo, sarà un passaggio abbastanza veloce, perché se andiamo a vedere la giornata di giovedì, troviamo improvvisamente, molto rapidamente, forse troppo rapidamente, forse ci vorrà un pochino di più, però tutto sereno, comunque, insomma, pochissime nuvole, qualche debole, debolissima pioggia ancora al sud, quindi vedete che è un tempo che cambia. Le temperature minime di questa mattina sono in parte scese, come ci si aspettava al nord, al centro, sono rimaste stazionarie, al sud, lo stato dei mari, diciamo relativamente tranquilli, rispetto ai giorni scorsi, ma comunque facilmente mossi, è il colore un po' che va, diciamo, sul blu scuro, è molto mossi, localmente agitato ancora, il Mar Ligure, per venti da sud-ovest. Se volete, a proposito, appunto, anche di queste piogge, oggi parleremo dei simboli, e delle diverse cartine. adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio. Noi, se volete, subito prima delle 7.55.